Musica Un coniore ben ritrovati per l'appuntamento con le informazioni di TSN, un'edizione che apriamo subito con la cronaca. A Colico si sono protatte per tutta la giornata di ieri le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato all'Alma e che ha semidistrutto un capannone. Abbiamo detto rogo domato ma resta la paura per dei fumi forse tossici. Vediamo il servizio per saperne di più. L'ipotesi più accreditata è quella di un evento provocato dal surriscaldamento di alcune batterie in giacenza in attesa di essere trattate e con ogni probabilità danneggiate. Gli inquirenti tendono a scartare dunque la causa del dolo per l'incendio divampato ieri mattina intorno alle 6 all'interno degli stabilimenti della Seval in Via La Croce a Colico. Un'azienda specializzata nel recupero di materiali e componentistica provenienti da apparati elettronici. Incendio che ha di fatto distrutto un capannone situato all'interno del complesso a distanza di sole tre settimane. Era domenica 19 novembre da un altro rogo che in maniera del tutto analoga era scoppiato nello stesso luogo con modalità simili a quelle di ieri. Non causando fortunatamente alcun ferito e non facendo registrare casi di intossicazione. Le fiamme hanno divorato la struttura nella quale trovavano posto materiali elettronici in attesa di essere trattati. Due, le ipotesi attualmente al vaglio degli investigatori, l'innesco dell'incendio a causa di una batteria usurata stoccata nel deposito assieme agli altri elettronistici da bonificare o un cortocircuito partito proprio dall'impianto elettrico del capannone. Sul luogo del disastro hanno operato incessantemente per l'intera giornata di ieri e fino a tarda serata i vigili del fuoco di Lecco, Sondrio, Morbegno e Bellano. Coadiuvati dai nuclei nucleari, biologico, chimico e radiologico ed investigativo antincendio, assieme alla Croce Rossa di Colico, alle Forze dell'Ordine e al personale di Arpa Lombardia impegnato nei rilievi ambientali. Rilievi resisi necessari a causa della mole di emissioni dovute al rapido espandersi della coltre di fumi tossici prodotti dal violento rogo. Quei fumi, ben visibili lungo l'intera giornata di ieri ed accompagnati da un forte e acre odore, hanno tenuto con il fiato sospeso una fascia di comuni vasta ben 35 chilometri, compresa tra Colico e Lecco, territori nei quali è stato consigliato di tenere chiuse porte e finestre fin quando non saranno chiari gli esiti delle analisi operate da Arpa Lombardia su idrocarburi e diossine attraverso impianti di campionamento posizionati a breve distanza dal deposito bruciato ieri. Miracolosamente risparmiata dal rischio di diffusione in aria di quelle esalazioni, l'area della bassa Valtellina provvidenziale è stato infatti il soffiare del vento che ha evitato che la coltre tossica si spingesse anche sui comuni della fascia vicina a Colico, tra questi Piantedo, Delebio e Dubino. L'attività dell'azienda interessata dal rogo intanto è ripresa regolarmente. In tanti fortunatamente hanno scelto la Valtellina e la Val Chiaverna per questo ponte festivo. Tanti turisti dicevamo ma vediamo com'è andata anche sulle nostre strade. C'erano una volta le partenze intelligenti. C'erano, forse ci sono ancora e funzionano pure, ma non certo per raggiungere o soprattutto come è stato ieri e sin dal mattino per lasciare la Valtellina dopo qualche splendida giornata con gli sci ai piedi. Una sola strada rotonde che creano file chilometriche per non parlare di ciò che succede sul campone a Tirano e in zona Trippie alla Sassella a Sondrio. Succede d'estate, succede d'inverno certo, ma al delirio di questo fine settimana da tempo non si assisteva. Già dal pomeriggio di mercoledì, vigilia di Sant'Ambrogio, il traffico di veicoli in direzione Alta Valle si è rivelato intenso, ma la situazione non è migliorata neppure venerdì. Anzi, ottimo per il turismo, senza dubbio, del resto la neve c'è, seppure il covid abbia rialzato con prepotenza la testa, non bisogna più fare i conti con alcun tipo di limitazione. Resta il fatto che quasi due ore e mezza di auto da Bormio a Tirano, immaginate quindi almeno un'ora in più per chi era a Livigno, e poi averne davanti altre due buone buone per arrivare in città, fa, come si suol dire, passare ogni poesia anche allo sciatore più innamorato delle nostre piste. E non è andata meglio a chi nel pomeriggio di ieri ha pensato che salire su un treno potesse essere la mossa giusta per evitare il caos da rientro. Oltre ai soliti ritardi, la media è di 15 minuti, il treno per Milano delle 16.08 da Tirano è stato cancellato senza preavviso e neppure sostituito con un autobus. Non possiamo accettare che il trasporto ferroviario venga gestito così, ha dichiarato Andrea Frangiamore della Filt CGL, e che nel nostro territorio soprattutto si sia insinuata l'idea che il treno non sia un mezzo affidabile, quindi considerato come ultima ipotesi per la mobilità. Per il sindacato di Sondrio serve un cambio di passo perché, come manifestato anche dai sindaci di Sondrio, Morbegno e Chiavenna, i cittadini per i tanti problemi di inaffidabilità stanno abbandonando, almeno chi ne ha la possibilità, il trasporto ferroviario, congestionando ulteriormente le vie di traffico su gomma. E in qualche modo restiamo in tema perché Sondrio sarebbe una città perfetta per i ciclisti, ma non sempre è così, forse anche per colpa di un po' di maleducazione di chi la bicicletta non la usa. Vediamo dunque il prossimo servizio per saperne e capirne di più. Spostarsi a Sondrio in bicicletta o a piedi dovrebbe essere la cosa più banale scontata, viste le dimensioni cittadine, ma così non è e i rischi, soprattutto per i ciclisti, sono parecchi. È di quest'oggi la segnalazione di una nostra telespettatrice che ha evitato per un soffio di essere investita da un'automobilista distratto che si è fermato a pochi millimetri della sua bici. Per lei, dice, si tratta del secondo episodio in pochi mesi, mentre la figlia, alcuni giorni fa sulle strisce pedonali davanti alla scuola primaria verso cui era diretta, ha rischiato di essere travolta da un'auto alla guida della quale c'era una persona che non si è fermata neppure per scusarsi. Un'automobilisti che, oltre a sostare lungo le ciclabili, mettono veramente a rischio con i loro comportamenti, le loro disattenzioni, chi transita sulle due ruote. Molti genitori, quando escono con i bambini, non si sentono di lasciarli sulle ciclabili, ma li fanno transitare sui marciapiedi perché è l'unico posto considerato sicuro, e questo pur contravvenendo al cordice della strada. Le situazioni che mettono a rischio il ciclista stanno veramente diventando all'ordine del giorno per chi usa la bicicletta, come me, per tutti gli spostamenti urbani. Ed è una constatazione che ho potuto appurare anche nel confronto con molti altri genitori che si trovano davvero in difficoltà ad accompagnare i propri bambini a scuola e rinunciano per questo perché il fattore rischio davvero non è più sottovalutabile. Gli automobilisti si difendono lamentando a propria volta la maleducazione dei ciclisti, spesso contro mano o incuranti dei semafori. Chi ha ragione? Nel frattempo, fa notare la mamma ciclista, emergono pure nuovi divieti al transito delle bici come quello spuntato nel sottopasso di via Bonfadini, unico transito protetto per l'attraversamento ferroviario e il collegamento periferia sud-centrourbano. Tutte le mattine chi si reca verso il centro della periferia o viceversa verso le scuole che hanno sede in quella direzione trovava in quel sottopasso l'unica via protetta e senza un'alternativa francamente non vedo come i miei bambini potranno continuare ad andare in bicicletta. L'augurio da parte di questa mamma ciclista è che l'amministrazione che sulle biciclette da anni punta anche per il rilancio turistico del capoluogo riporti per davvero l'attenzione sulla mobilità sostenibile restituendo alla città vie sicure a misura di tutti e a quel punto, perché no, anche dei nuovi visitatori. Ed ora cambiamo decisamente argomento perché in trecento hanno partecipato a Montagna alla camminata di Babbo Natale appuntamento organizzato a favore della Lilt Sondrio. L'evento si inserisce in Aspettando il Natale tre giorni di mercatini che hanno avuto un grande successo. Vediamo. Oltre ai numeri che pur sono lusinghieri più forti dell'indifferenza e del freddo stagionale la solidarietà corre veloce in alcuni comuni come Montagna ancora di più grazie alle tante associazioni del territorio e alla sensibilità dell'amministrazione comunale. Diventa così quasi scontato raccontare delle trecento persone che hanno partecipato alla camminata di Babbo Natale a favore della Lilt e in tanti hanno risposto tutti rigorosamente con il vestito più appropriato. Sì, effettivamente non mancano mai devo dire la verità la provincia di Sondrio è una delle più attive sotto questa forse anche perché è relativamente piccola come abitante quindi è facile mobilitarne parecchi quindi sì, il paese risponde e si fa qualcosa non si parla soltanto L'incasso è stato devoluto alla sezione di sondro della Lilt la lega italiana per la lotta contro i tumori la camminata era ben inserita nel riuscito evento aspettando il Natale la tre giorni di mercatini natalizi Cerchiamo di fare il possibile mi piace il volontariato per cui quando ci chiedono di collaborare con qualcuno volentieri noi accettiamo Prezioso l'impegno delle associazioni di montagna molto graditi nel corso della tre giorni i prodotti tipici proposti dai mercatini nel centro storico del paese e lo spettacolo dei burattini importante anche il coinvolgimento delle scuole assolutamente da visitare resterà aperto al pubblico per tutto il periodo natalizio sino all'epifania il presepe realizzato dall'AMMI l'associazione del monte di montagna insieme colonna sonora oltre al musica e natalizia le fisarmoniche di Flavio Bottoni e dei suoi colleghi musicisti che hanno pescato nel loro repertorio più tradizionale per aglietare queste riuscite giornate dedicate alla Lilt ed ora andiamo insieme a Tresivio perché è Valtellina terra naturalmente di alpini ma anche di aviatori scopriamo insieme perché Valtellina è terra sacra di alpini ma altrettanto valorosa in campo dell'aviazione e dunque per ricordare i convaligiani aviatori ieri giornata della Madonna Nera di Loreto protettrice degli aviatori civili e militari e patrona dell'aeronautica a Tresivio per il terzo anno si è svolta la cerimonia religiosa alla Santa Casa Lauretana che proprio alla Madonna Nera è dedicata tra i presenti è anche il generale dell'aeronautica che ha lanciato l'idea della commemorazione agli amici della provincia di Sondrio la Madonna di Loreto per noi dell'aeronautica è un'istituzione alla quale veniamo abituati fin dall'inizio appena entriamo in aeronautica per chi vola come per chi va sul mare o che comunque fa mestieri poco sereni se vogliamo dire è una cosa importante perché sapere di avere comunque una protezione fa bene allo spirito in ogni occasione l'importanza di farlo qui in Valtellina è dovuta al fatto che abbiamo questo bellissimo santuario dedicato proprio a una Madonna di Loreto e quindi è doveroso renderle omaggio in questa giornata la Valtellina come detto vanta diversi piloti pluridecorati noi come club abbiamo anche recentemente ricordato la caduta dell'aereo americano Livigno nella missione Spokane dove sono morti dieci avviatori americani abbiamo in Valle delle Mine un cippo che abbiamo predisposto e inoltre all'interno qui della Basilica noi abbiamo fatto due quadri che ricordano da una parte tutti i nostri avviatori e dall'altra gli avviatori americani caduti e per commemorarli ieri a Tresivio dalla base di Campederle Vicenza anche il rappresentante dei veterani a stelle strisce l'importanza oggi è di pensare e dare un tributo a quelli che sono caduti durante la seconda guerra mondiale qua alle Valle e sono qua per rappresentare l'America gli italiani devono ricordarsi i sacrifici che hanno fatto le nostre forze armate e devono ricordarsi i sacrifici fatti anche dalla popolazione valtellinese per cui è importante ricordarli è importante non dimenticare la storia perché chi dimentica la storia poi è destinato a ripeterla Ed ora cambiamo nuovamente argomento la notte degli Oscar lo spettacolo benefico proposto da Music and Friends non ha tradito le attese il ricavato è andato alla Croce Rossa al comitato di Sondro ma è stato anche importante il messaggio di pace, solidarietà e condivisione lanciato dal palco di Sondro vediamo Unire la passione per la musica alla voglia di stare insieme il tutto con un fine benefico che non guasta mai e poi se le esibizioni canore sono anche di buon livello non si può che applaudire è questa la sintesi della notte degli Oscar l'uscito spettacolo proposto dal gruppo Music and Friends al teatro sociale di Sondro il tutto a favore della Croce Rossa comitato di Sondro e mentre l'assessore alla cultura del capoluogo Marcella Fratta sottolineava l'impegno del volontariato Giuliana Walteroni della Croce Rossa ricordava il messaggio positivo che arriva dal gesto ad aiutare chi è in difficoltà Mirella Maxenti Gianmaria Moiola Deborah Giumelli Chiara Cornaggia Gil Bianchi e Ines Ciapponi hanno dato voce ad una serata fatta anche da suggestive immagini mentre Fortunato Cao e Francesca Quistapace hanno legato con i loro interventi i vari momenti dello spettacolo da tanti anni l'associazione Music and Friends dedica i propri concerti la raccolta fondi per associazioni o enti impegnati nel sostegno di malati e delle loro famiglie nell'aiuto del prossimo e nella tutela dei più deboli le note di C'era una volta al VOS di Ennio Morricone hanno aperto una serata dedicata a Hollywood e alla musica che ha segnato la storia del cinema da Michael Jackson a Winston Houston da Elvis per arrivare alla vita bella di Roberto Benigni e poi ancora Titanic e Top Gun la proposta ha toccato tutti i generi musicali e i gusti e le fasce d'età del pubblico alla fine tutti in piedi ad applaudire sul palco del teatro sociale la consapevolezza di aver fatto un buon lavoro e il piacere di essere di aiuto agli altri non è poco anche questo è da notte degli Oscar grazie 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 a tutti e infine la pagina sportiva insomma una sconfitta tre espulsioni addio al primato in classifica non è certo stata una domenica da ricordare per il Sondro Calcio vediamo perché duro pesante in parte inatteso è arrivato così il primo stop casalingo Planova Sondro Calcio battuta una zero dall'Emine al Menno squadra bergamasca che nel campionato di eccellenza lotta per la salvezza cambia anche la classifica con il mappello che sale a 37 punti uno in più dei biancozzurri valtelinesi il generale Inverno come inevitabile che sia condiziona campi e prestazioni a pesare però anche le tre espulsioni contro una dell'Emine e la rete dei bergamaschi nel primo tempo in sospetto fuorigioco dobbiamo essere bravi a capire i perché di questa sconfitta sicuramente non è responsabilità dell'arbitro e come dice Gasperini io non perdo mai noi non perdiamo mai o vinciamo o facciamo tesoro e impariamo qualcosa dalle sconfitte Sondro che al di là della sconfitta deve riflettere su quanto è successo nel finale al 29esimo biancozzurri in 10 per il rosso a Gonzalo e Scudero per le proteste al 44esimo al portiere sondrese Rodigrez causa un rigore prima della battuta dal dischetto momenti di tensione fra i giocatori in campo ne fanno le spese lo stesso Rodigrez Boffelli e il secondo portiere del Sondro Cella a sua volta espulso il rigore poi sarà sbagliato ma poco cambia può essere che la prima volta che andiamo sotto in una partita in casa perdiamo un po' poi dopo la testa con delle espulsioni che poi peseranno per le partite successive e quindi c'è da fare analisi lucida e cercare di mettere i giusti correttivi a una partita giocata decisamente sotto tono e ribadisco meritatamente persa prossimo turno domenica 17 dicembre Sondro Cisanese per tornare a correre anche se con gli uomini contati andrà meglio la prossima speriamo questa era l'ultima notizia e buon presumimento di ascolto e di visione con i nostri programmi Sondro Cisanese